dipende dalla moda.f attraverso francesca r a cura di vb anna maria in questo periodo molti cristiani protestanti fanno delle riunioni faraoniche con persone per lo più malate avvengono miracoli di guarigione chiedo se questi miracoli avvengono anche con il vostro aiuto o sono loro che usano forze particolari c'è stato insegnato che l'incenso purifica l'aria ma in queste riunioni pensano che l'incenso faccia male guida dovresti sapere che le forme pensiero sono molto potenti e permettono la guarigione se è prevista per i singoli malati a livello karmico quando molte persone si riuniscono per un unico scopo creano una potenza maggiore della forma pensiero davvero davvero importante se questa energia è indirizzata correttamente può avere un forte valore di guarigione in realtà voi non avete una conoscenza della vostra capacità informativa che vi permetta di utilizzare tutti i vostri corpi e di manifestare all'interno di questa realtà incarnativa l'auto guarigione a livello energetico quindi vi serve riunire in una moltitudine di persone che utilizzano la stessa intenzione la quale produce questi fenomeni è facile trovare lo stesso fenomeno in alcuni luoghi del pianeta dove il miracolo si manifesta costantemente l'utilizzo o meno dell'incenso dipende dalla moda della forma pensiero se io dico che l'incenso fa bene e migliaia e migliaia di persone credono che l'incenso faccia bene l'incenso si carica di quelle vibrazioni e ha quell'effetto purificante